Nel segno della pace con la speranza della pace, il solenne pontificale di San Matteo, presieduto dall'arcivescovo Monsignor Andrea Bellandi, con Don Felice Moliterno e il vicario generale Don Alfonso Raimo, con l'omelia di padre Massimo Fusarelli, comincia così, con lo sguardo rivolto ai due santi che si guardano e abbracciano in un giorno di festa per i salernitani e che hanno affollato il quadriportico del Duomo dalle prime ore del mattino. Francesco non era un ingenuo, conosceva la guerra e la morte, ha detto padre Massimo durante l'omelia. Ha osato pensare, oltre che del suo messaggio di pace, ne parliamo ancora dopo 800 anni. Francesco ha imparato ad attraversare la realtà, a non avere paura, ad affrontare tutte le contraddizioni dell'essere umano come la guerra, ha seguito l'insegnamento di Matteo, facendo diventare il grande di oggi piccolo. La presenza di padre Fusarelli ha una valenza simbolica, ha detto infine Bellandi, ci ricorda il compito di noi cristiani di essere artigiani di pace. Oggi è drammaticamente violata dai tanti conflitti del nostro mondo, non ultimo quello che sta macchiando di sangue, la terra che ha visto nascere il nostro Gesù, il vero portatore di pace, e che sta vedendo morire tanti bambini. Nelle sue parole si vede giustamente che l'aggressività di questo mondo e dei social sta sgretolando i veri valori. Celebrare San Matteo ci può portare a realizzare maggiori spazi di convivenza fraterna e di ascolto per chi è in difficoltà. Il solenne pontificale ha aperto le celebrazioni del 21 settembre, tra tradizione e fede come di consueto, alla presenza di tante autorità religiose, civili e militari della città di Arechi. Poi la processione per le vie della città con una novità, una marcia di pace. Sì, è un pensiero che credo accomune un po' tutti, un desiderio di pace innanzitutto nel mondo, ma credo che sia un desiderio da esprimere anche per le nostre famiglie, per le nostre case e per l'intera nostra città. Paradossalmente San Matteo quest'anno avrà una novità, ci sarà una marcia e questa è la marcia della pace del santo. I passi saranno scanditi da questa marcia, è un modo per indicare questo legame che unisce Matteo e Francesco e che questa mattina sarà evidenziato proprio dalla presenza del generale dei Francescani. Ho ricevuto questo invito direttamente dall'arcivescovo e ho detto ma perché devo venire io? E mi ha detto voglio quest'anno mettere un po' in legame San Matteo e San Francesco per il centenario soprattutto delle stimmate, con lo sguardo alla preghiera, all'ansia per la pace in terra santa e allora ho accettato subito. Questa è una festa molto importante per i salernitani, non so se ha potuto notare già l'aria che si respira qui in città nel quadriportico del Duomo, insomma i preparativi dalle prime ore del mattino, che sensazione le ha dato? Mi sono preparato cercando chiaramente in internet le notizie, ho visto il panno un mese fa, poi la processione di questa sera, ma è vero appena sceso dalla stazione ho notato un po' l'effervescenza nell'aria, proprio anche qui della cultura, della vostra gente e questo mi fa sentire a casa, mi fa sentire l'atmosfera di festa, cioè San Matteo è certamente una festa religiosa ma ha un risvolto civile, civico, sociale e mi sembra che mantenere questo sia molto bello.